Buono Allora 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 E' niente, chi va a dire tu Fai trattata che ah, non ti sento niente Tu sai Ah, a questa parte tu Mi chiamo Gianluca Ah, ehi Eh Una mia risposta a telefono Io ti volevo salutare Gianluca io non ho trovato nessuna chiamata Di cipra Gianluca Ah, bene Voi c'è questa parte Ehm Poi Ehm 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 Ehm